ciao a tutti da out of beat da tony saufa oggi andiamo a recensire la rom sky dragon sky dragon per one plus 2 basata sul firmware oxygen quindi la versione europea del one plus 2 prima custom rom ad essere implementata su one plus 2 su base oxygen spero vivamente che i dev si diano una svegliata ma soprattutto one plus 2 siccome non rilascia completamente i sorgenti ancora non rilascia completamente i sorgenti della rom risulta un po difficoltoso da parte degli sviluppatori implementare comunque da zero le rom quindi one plus non ci scassare la minchia che cazzo dobbiamo prendere a fare il tuo one plus del cazzo se non riusciamo a flashare e fare un po di mobbing non mobbing modding quindi diciamo che in realtà potrebbe essere una un'alternativa il fatto di implementare rom o comunque cucinare qualcosa sul firmware stock perché diciamo potrebbe essere un'alternativa al non rilascio dei sorgenti detto questo andiamo a vedere cosa porta di nuovo questa rom cosa porta di nuovo di nuovo questa rom nulla c'è nulla nel momento in cui parte la rom è sicuramente una rom de blottata quindi molto più snella rispetto alla normale ma non abbiamo bisogno di avere una rom una rom snella queste sono le app che ci sono come potete vedere c'è a di away per la pubblicità green file che io ho deciso di ottenere e qualche altra sminchiatina quindi molto molto leggera scr pro ovviamente non c'è l'applicazione che sto usando per poter fare la registrazione cosa porta di nuovo questo è il diciamo manifesto di questa rom sostanzialmente nulla tranne la modalità di flash di questa rom attraverso l'implementazione della rom installer che non è nient'altro che un wizard all'interno all'interno della recovery che vi guiderà passo dopo passo vi prenderà per la manina e vi porterà nel flash finale della rom in base a quelle che sono poi man mano le customizzazioni che il cliente che lo sviluppatore implementerà quindi queste sono le schermate che vi troverete la parte introduttiva poi qui che tipo di wipe vi volete fare dirti wipe o full wipe non trovo che a spiegarvi la differenza quale altre applicazioni volete rimuovere in realtà qui ho saltato una schermata precedente dove c'erano tutte le applicazioni che era possibile scegliere di installare o disinstallare i dpi non funzionano sinceramente ho impostato 4 20 ma la schermata è rimasta identica quindi ho implementato una minchia e qui decidete di installare o non installare la rom questo è il processo di installazione e questa è la schermata a diciamo installazione completata questa è la rom io non ho nient'altro da da dirvi faccio vedere il lock screen ma è nulla di particolare insomma funziona tutto perché sostanzialmente non ha cambiato un cazzo ciao ragazzi alla prossima da Tony Souffa